Nuovo blocco del traffico a Roma dove gli attivisti per l'ambiente sono tornati a protestare sedendoci sulla carreggiata del grande raccordo anulare. Stavolta la zona chiusa dai manifestanti di ultima generazione in prossimità dell'uscita 24 ha nuovamente paralizzato il traffico scatenando l'ira degli automobilisti. Insulti e momenti di tensione con i ragazzi che all'arrivo della polizia sono stati spostati di peso ai margini della carreggiata identificati. No gas e no carbone chiedono agli attivisti che attraverso i blocchi stradali puntano ad ottenere un'azione concreta dei governi sul clima.